E' arrivato le 2.31 del 1 gennaio 2019, Adam, all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. E' il primo nato negli ospedali dell'Auls 9 Scaligera, 4 kg e 160 g per il terzo figlio di Maria Dal Cortivo, che esprime tutta la sua gioia per questa nascita. E' stato proprio una sorpresa, perché Adam doveva nascere la vigilia di Natale e invece ha deciso di scegliere il primo giorno dell'anno del 2019. Insomma, ha un po' confuso appunto le date, ecco. E' il terzo figlio maschio. Terzo figlio maschio. A casa abbiamo Isacco, che farà 6 anni a giugno. E abbiamo Zeno, che fa 3 anni il 3 di gennaio, quindi vicinissimo a suo fratello. Dal modo in cui maneggia il piccolo Adam si vede che Maria è una mamma esperta. Poco dopo arriva anche il papà a prendere in braccio il piccolo, che ci fa sentire la sua voce. Perché Adam? Adam perché cercavamo un nome che non fosse così comune e il papà ha scelto questo nome che ha un significato un po' particolare e appunto ci piaceva sia come nome che come significato. All'ospedale di San Bonifacio lo scorso anno sono nati ben 1355 bambini, un numero importante anche se con una flessione comune ad altri punti nascita. Ma le previsioni a livello generale sono in leggera deflessione ovunque. Anche noi quest'anno rispetto all'anno scorso, pur avendo dei numeri notevoli, dei numeri buoni, siamo in leggerissima deflessione ma talmente minima da poterla considerare come una variazione fisiologica. Comunque una sessantina di parti in meno l'anno scorso. Circa, sì, circa. E comunque è bello vedere queste giovani mamme che con fiducia portano a termine queste gravidande. Certo, noi per quanto riguarda noi e per quanto riguarda l'approccio che abbiamo noi con le mamme e con i bambini, l'incutere fiducia è una delle missioni più importanti nostre. Incutere fiducia nella possibilità di allattare, nella possibilità di allevare bene con serenità i bambini fin dall'inizio. E per tutti i bimbi appena nati nel 2019 non ci resta che augurare una vita piena di salute, di gioia e di amore tra le braccia dei loro genitori. Da mamma tutto il bene e le cose belle di questo mondo. Posso augurargli che stia bene e che abbia un futuro roseo. Questo è proprio quello che mi auguro, insomma, e che gli auguro. Grazie. Grazie. Grazie.